E ha parlato di suo ruolo come facilitatore della messa in discussione. Che cosa intendeva? Intendo questo. Il nostro sistema sanitario italiano è un sistema molto efficace, come dimostrano tutti i dati di salute, di durata della vita, di qualità della vita. Però, come tutti i sistemi, è un sistema autoreferenziale, cioè tende a pensare agli interessi di cui ci sta dentro il sistema degli operatori e quindi a disegnare se stessi sulla base di questi interessi. Ecco, noi dobbiamo rovesciare il paradigma, dobbiamo fare in modo che il sistema sia pensato esattamente per i bisogni espressi dai cittadini. Questi non sempre coincidono con quelli degli operatori. C'è bisogno di questa ginnastica continua. Faciliterò appunto il compito di entrare all'interno di questo nuovo orizzonte di pensiero, di considerazione, che deve avere un grande ascolto nei confronti di quelli che sono i nuovi bisogni espressi dai cittadini.